Si torna a stare insieme, a suonare insieme e a comunicare, a condividere, questo diciamo che è il messaggio più importante ed è la cosa più bella, tant'è vero che si moltiplicano ancora più di prima gli street festival, la musica per strada eccetera, al di là appunto dei saggi di fine anno della nostra scuola di musica. Dopo il concerto del 15 giugno al Qui, nell'estate post pandemia, gli allievi della nuova busto musica di Ornella Gobbi e Cesare Bonfiglio si esibiranno sabato 17 e domenica 18 nella tradizionale cornice del teatro San Giovanni Bosco. La cosa bella è che ci saranno musicisti, io li chiamo così, di tutte le età, dai bambini di tre anni con animazione musicale sino a signori in pensione, belli arzilli e musicalmente molto preparati anche sopra i 70 anni.